c'è la oggi si preparerà vista grande richiesta gli spaghetti con pomodori secchi tabono gli acciughe e le pane tostato intanto se è tostato il pane odolio pangrattato poi si prende l'olio abbondante lo spicchio gli spicchi l'aglio via forse tagliato a coltello anche meglio magari si accende il fuoco e si fa imbiondire un po nel frattempo e lui lavora si prende i nostri comodori a gusto è più o meno mezzo vasetto e si tagliano un altro paio e si mette il tutto poi si prende le acciughine anche queste ha sensazioni e troppe forse e ci si mettono si spezzettano anche queste in modo grossolano perché tanto potevo ponere la catella oddio ce ne avevano messe troppe e via anche loro al loro destino a questo punto ci metto un pizzichino di passata insomma doppio concentrato e passata ma cosa dico per dargli un po' di colore chi li accende sarà l'importa perché tanto la ciove sono salata e si fa cuocere due minuti dopo allora quando la pasta è quasi cotta diciamo che rimancano tre minuti si ripassa in panella ovviamente si riaccende qua e magari se si fa un po' meno casino è meglio si lascia anche un po' d'acqua di cottura in modo da risoltare bene no grazie grazie